ciao a tutti amici di roma youtube ben trovati eccomi qui di ritorno con un nuovo boxing ve l'ho già mostrato in uno shorts su youtube ma oggi vi vado ad unboxare in maniera un po più completa la nuova steelbook della saga di fast and furious stiamo parlando di fast x che per l'occasione arriva in questa versione che riprende un po la cover del 9 e anche di altre steelbook che sono state fatte in precedenza ma si discosta molto da un'altra serie di steelbook insieme sempre sempre fatti fast and furious hanno fatto veramente una marea di steelbook fast and furious negli anni ma questa riprende un po quella del 9 che era sempre collector con blu ray e 4k vi dico subito che la steelbook è andata fuori catalogo su dvd store quindi vuol dire che quando fuori catalogo su dvd store non è più possibile ordinarla a magazzino ma la trovate ancora un po ovunque però fate attenzione perché potrebbe andare esaurita all'interno di questa steelbook ovviamente c'è sempre il fogliettazzo con tutti i dati principali era stato annunciato che la steelbook così come la versione blu ray dvd e 4k normale avevano una cover localizzata per il mercato italiano con lo sfondo di roma in realtà questa cover l'hanno solo dvd blu ray e 4k normale la steelbook no perché la steelbook viene realizzata con la stessa grafica per tutto il mondo e quindi non era possibile inserire roma su questa steelbook devo dire che esteticamente non è male ma non è manco insomma al top però comunque è una steel molto molto elegante e poi all'interno abbiamo i due dischi guardate qui però non c'è nessuna immagine all'interno veramente l'universa è andata un po purtroppo sotto questo aspetto al risparmio peccato perché insomma è un film che va da sì insomma sempre molto molto bene disco 4k strepitoso veramente si vede una bomba veramente incredibile abbiamo un 7.1 digital plus per l'audio italiano non è hd ma comunque è un ottimo audio e ripeto è un film che ve lo sparate in questa definizione è qualcosa di assurdo il film come a me onestamente da fan è piaciuto sicuramente siamo sempre sulle esagerazioni sicuramente fa vedere una roma che non esiste sicuramente però è probabilmente il meno esagerato degli ultimi prodotti ed è comunque sempre divertentissimo a me onestamente diverte sempre non poi si hanno preso le distanze da quello che era l'originale fast and furious però a me la famiglia torretto mi piace quindi è sempre un po come tornare a casa incredibile come io riesco a passare da i sette samurai a fast x e farmeli piacere entrambi però io ci riesco e questo è il disco blu ray che si vede molto ben uguale ma all'interno anche i contenuti speciali che sono all'incirca un'ora e c'è uno speciale su roma in compagnia di momoa c'è un bel making of sul film circa mezz'ora c'è uno sul combattimento delle donne protagoniste all'interno di questo film c'è il ritorno della famiglia insomma c'è veramente tanto tanto insomma c'è tanto materiale per ripeto oltre un'ora di contenuta di contenuti esclusivi niente male insomma per questo disco blu ray la steelbook come vi ripeto la trovate un po ovunque tranne che su dvd store perché ormai l'ha già dichiarata fuori catalogo se vi è piaciuto questo video come al solito mettete un bel mi piace se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere ragionati sempre sui prossimi unboxing io vi ricordo che vi lascio il link in descrizione ad amazon se vi interessa questa steelbook e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao a tutti